Salve popolo di Youtube, da oggi sto inviando il 10 all'8 quello serale e fra una decina di giorni arriverà anche quello 10 all'8 ogni 5 minuti lo fusco. Non dovete fare nessuno sforzo su quello serale, lo capirete una volta che vi arriva. Allora, voglio parlare un po' di lotto genuino amici miei, perché secondo me ce n'è di bisogno veramente. C'è bisogno per cercare un attimino di dare delle ottime informazioni a chi mi segue, ok? Allora, questo ha un po' 10 all'84, su questo ci siamo. 10 all'84, benissimo. Che cosa vi voglio dire? Queste le mie previsioni sono composte solo da due numeri, ve lo voglio dire così, ma giusto per per spiegarmi in modo chiaro con voi. Parliamo di due numeri. Adesso che cosa accade? Spesso voi sentite due colpi, cinque colpi, quello che sia, no? Poi puntualmente, e dico puntualmente, le persone cambiano idea. Come si cambia idea nella vita? Si cambia idea anche quando si va a giocare. Ma per variati motivi, perché si vede un video, se ne vede un altro, se mai qualcuno fa vincere, allora si corra presso a quelle persone, perché funziona così, no? Noi seguiamo quelli che fanno vincere. Oggi fa vincere le U, domani fa vincere un altro. Però che cosa succede? Che seguendo giustamente tante persone, si va a cercare di giocare. Quante più previsioni? Chiaramente, si potrà mai avere un vero guadagno, quindi non ci prendiamo in giro. No. Eppure quando si vince, non si sa se si è preso i propri soldi. Perché vi dico questo? Ok. Io qua ho scritto 10.84. E ho giocato 10.84. Ok. L'altro è un po' secco, io non l'ho giocato. Io seguo una previsione. E a me poco interesse se questo esce fra un colpo, fra due colpo, fra dieci colpo, fra quindici colpo. Cioè il problema non me lo faccio. Perché? Uno, so di che ambo sto parlando. Ambe e ambetta. E due, cerco di giocare in un modo. Saggio. Faccio un esempio. Neuro lambe e neuro lambette. Un esempio. Per tre colpi. Non resta così. A quarto colpo in volo. Due lambe e due lambette. Passano altre quarta colpi. Quarto euro lambe e quattro euro lambe. In qualsiasi momento io vingo. Vingo bene. Ma ovviamente. Anche se nelle persone giovani euro lambe e nero lambette. Quei dieci colpi. Quanto avrai spesso? Quarante euro. Quello è. Esce lambette su sessanta. E quindi se passano i tredici colpi. Il lambetto. Per forza. Se non ci metti qualcosa in più. E non esce l'ambo. Tu non recuperi. Se esce l'ambo. Non c'è problema. Quindi. Saper giocare. Amici miei. Saper giocare. Ma qui. Voglio dire. Non è che. Siamo sinceri. Ci vuole la laurea. È che uno non si iscrive mai con quello che si va a giocare. Cioè le persone sul gioco. I conti non se li fanno. Perché vengono presi per l'appunto dal gioco. Allora io verrò in video. Ve lo dico adesso. Segnate sto video. Metteteci che ne sono un asterisco. Come quando uno si va a fare l'analisi. Metteteci un bel asterisco. Perché quando sortirà l'ambo o l'ambetto. Vedrete. Il mio scontrino. Come adesso sta qua. Per domani. Vedete. Ma adesso stiamo sinceri. Un'altra persona che. Chiedo scusa. C'è stato un momento. Un momento. Un po' succedere. Mi dicevano. Cioè mi stavo dicendo. Allora. Giocare. Una sola previsione. Che cosa vuol dire? Che io c'ho la previsione. Dell'ambo. Vittorioso. È ovvio che c'ho anche un solo ambo. Dell'ambardo del sesto. Ma soltanto perché c'è. Questa volta c'è la condizione. Per sei mesi non è venuto fuori uno. L'unico giorno che è venuto fuori. 5.50. Che ieri. Hanno vinto di nuovo. Però ieri 5.50. L'hanno vinto. Col metodo del 90. Ma su ruota unica. Non ne parlo. Ma è successo di tutto. Sono arrivati scontrini. Perché quelli sono metodi. E quindi. Uno se vuole. Si gioca con la previsione. E metodo. Ma qui. Stiamo parlando. Di un solo ambo. Su due ruota. Ma che cosa succede. Perché le persone cambiano idee. Vi faccio un esempio. Immettiamo che domani sera. Dove si uscire l'ambo. Dell'ambardo del sesto. Ok. Io faccio il video. E faccio vedere la vincita. Dell'altro ambo. Allora semmai. La persona che. Che sta giocando. L'ambo vittorioso. Che c'è soltanto. Attenzione. Lo ha soltanto. Che gioca. E che sa. Dove si vanno a vedere le vincite. Ormai lo sanno. Ovvero sulle piattaforme. E quindi dice io. Chi c'ha per esempio. Sulla piattaforma. L'ambo. Dell'ambardo del sesto. E vede per esempio. Che esce 184. Non gli interessa. Perché non gli interessa. Perché quelle poche persone. Siamo in 42 di noi. Sanno. Che vinceranno con il 184. Il problema non esiste. Non sussista. Si presuma. Che vinceranno con il 184. L'ambo l'ammetto. Quindi. Pure se quelli vedono. Fanno lo zapping su youtube. E vedono pure una persona. Che da una cinguina escono tutte a cinque. Magari. Quello continua a giocare. L'ambo. Dell'ampato del sesto. Che cosa vi sto dicendo. Praticamente. Alla fine di tutti i ragionamenti. Che quando la giocata è così ristretta. E si vedono i risultati. Una persona non va a guardare. A destra e a sinistra e a manca. E chi. Si. Non ha le idee chiare. Va verso altri numeri. Perché vede un altro che ha vinto. Ma quella persona che ha vinto. Ha giocato i suoi gruppi di gioco pure lui o no? Quindi. Quei pochi che hanno a che fare con me. Sanno di che si tratta. Sanno di che cosa stiamo parlando. Io nemmeno l'estratto ci metto. E' chiaro. Perché questo è un gioco di un ambo unico. A cosa serve a fargli giocare altri soldi? Qua prendono 61 volte la posta. E se escono tutte e due. Come ambo sicco 230 volte la posta. E quindi andando avanti. Ogni due dei colpi mettendoci quell'euro in più. Esce al decimo colpo. Tu trovi con 5 euro di ambo e 5 euro di ambetto. Ok? Cioè è il modo di come si gioca. Ma sinceramente. Se uno mi dovesse dire. Signor Leo. Ma secondo me. Su 100 persone. Quanti riuscirebbero a portarsi avanti un ambo secco per 10-12 colpi? Ve lo dico io. Una persona. E su 1000. 10 persone. E su 10.000. 100 persone. Su 100.000 persone. Quanti avrebbero la pazienza di attendere. Una previsione per 10 colpi senza muoversi. 1000 persone. Su 100.000. Quindi. Questo lo so io. Lo sapete voi. Con la differenza che voi lo sapete. Ma da un orecchio vi entra. E da un altro vi esce. Ecco perché io non mi metto a perdere tempo. Ecco perché siamo solo 43 persone in Italia. Che oltre a quest'ambo. Hanno l'ambata. E l'ambo del sesto. Questo ve lo dico perché. Vi faccio una sentenza. Se domani sera. Dico domani sera. Ma potrebbe essere giovedì. Potrebbe essere fra una settimana. Io vi ho fatto vedere. 10.84. E esce quell'altro ambo. Ma signor Leu. Fortunatamente io non mi faccio il problema. Perché a me è tutto libero qua. Voi lo sapete. Non faccio buonamente. Quindi il problema per me non esiste. Se voglio regalare una cosa. La regalo. Se la voglio far vedere solo su una piattaforma. Sono libero di fare quel che mi vale. E questa è la cosa più importante nella vita. Secondo me. Di ogni persona. Però ve lo dico a voi. Che state lì. Che casomai vi vedete il video. Dici ma Leu. Ho fatto le 10.84. E poi martedì è uscito l'altro ambo. E beh. E qual è il problema? E quelle persone avranno solo quell'ambo. Perché so che quelle persone giocheranno solo quell'ambo. Perché quelle persone. Ecco. E' il caso di mezzo a 100.000 persone. Quelle erano le 43 persone. Che hanno la costanza. E secondo me mi permetto di dire. L'intelligenza di aver capito. Come intendo giocare io. Va bene. Da Leone è tutto. Ciao.